Radio DGS, l'informazione. Infatti, in queste ore circola il nome di Pippo Callipo, quale possibile candidato alle elezioni per il rinnovo del governo calabrese. Una figura di superamento che dovrebbe mettere tutti d'accordo. La Orrico è stata una delle promotrici di Callipo quando l'industriale si candidò alle regionali. A Fuscaldo, Davide Gravina sarà il candidato sindaco di Fuscaldo Europea in vista delle prossime elezioni comunali. Torna in auge l'esponente politico con un certo anticipo, una scelta dettata dal fatto di avviare una seria discussione di bilancio e non a progetti improvvisati come spesso accade in vista delle comunali. Lanza Calabria. Una coltivazione di 780 piante di marijuana è stata individuata a Cetraro dai carabinieri che hanno avrestato due persone del posto rispettivamente di 28 e 40 anni. L'operazione è stata condotta dai carabinieri della Compagnia di Paola, stazione guardia piemontese marina e della stazione dei carabinieri forestali di Cetraro, supportati dallo squadrone Eli Portato Cacciatori Calabria. Conferenza a tema, laboratori esperienziali, trattamenti individuali ed esercizi per il benessere psicofisico, incontri con scrittori, musica dal vivo. Sono questi i principali elementi che contraddistingueranno la prima edizione del Festival Olistico Morgana organizzato dall'Associazione Culturale Maradan che si terrà dal 20 al 22 settembre presso l'Alta Fiumara Resort e Spa di Villa San Giovanni. Il programma del Festival e i suoi contenuti saranno presentati dalla Presidente dell'Associazione Maradan, Marcella Ritto, nel corso di una conferenza stampa che si terrà il prossimo martedì 17 settembre alle ore 11 presso la Pinacoteca del Comune di Reggio Calabria, coordinata dal consigliere comunale delegato alla Cultura Franco Arcidiacono. Dal Cilento un turista è morto ad Ascea Marina, negando in mare probabilmente per un malore improvviso. Si tratta di Pasquale Agia, 79 anni, residente a Sant'Angelo in provincia di Potenza. È l'ennesimo decesso che i sanitari dal 118 sono costretti a registrare nel Cilento. L'uomo era in vacanza insieme alla sua famiglia. Passiamo allo sport. La stagione della Carrera Cap Italia entra nella fase più calda. Il pilota calabrese Simone Iaquinta, dopo aver conquistato due vittorie sul circuito del Mugello prima della pausa estiva, si gioca in questo weekend la permanenza nell'alta classifica di campionato. Sul circuito romano di Vallelunga, infatti, Iaquinta spingerà al massimo la Porsche Carrera 911 Ginzani per cercare di ottenere punti importanti e giocarsi così le chance di successo in un finale di campionato rovente. È tutto, grazie per averci seguito.